Accoglienza dei migranti impegnati nei campi, gli impegni della regione per risolvere le emergenze di Palazzo San Gervasio e Metaponto. Buonasera e ben trovati, dovrebbe aprire entro venerdì il centro di accoglienza per i braccianti di Palazzo San Gervasio. Intanto la regione si impegna a risolvere anche l'altra emergenza che riguarda gli immigrati, quella cioè di chi è rimasto senza dimora dopo lo sgombero dell'ex felandina di Metaponto. Il punto nel servizio di Carlo Maria Miele. Dovrebbe aprire al massimo entro venerdì il centro di accoglienza per i braccianti immigrati di Palazzo San Gervasio. A dare il via libera il presidente della regione Vito Bardi e il prefetto di Potenza, annunziato Vardè, che hanno effettuato un sopralluogo ad hoc nell'ex tabacchificio. Al momento mancano le cucine così come i container che ospiteranno i servizi igienici e le docce, materiale che dovrebbe essere consegnato nel giro di poche ore e dentro venerdì dovrebbe essere effettuato anche l'allaccio dell'energia elettrica tuttora mancante. A quel punto, ha spiegato il prefetto, sarà possibile sgomberare la baraccopoli sorta alle matinelle in cui vivono al momento oltre 200 braccianti stranieri impegnati nella raccolta dei pomodori nei campi dell'Alto Bradano. E a chiedere un impegno per risolvere la questione dei braccianti stagionali in tutta la regione è anche il forum Terre di Dignità ricevuto in consiglio regionale. Ora è arrivato il momento che le istituzioni ci dicono intanto come si usano gli strumenti già a disposizione e poi come si cambia il verso. Gli strumenti, i soldi, le misure servono se risolvono i problemi. Dopo lo sgombero di fine agosto sono tanti gli immigrati dell'ex feilandina rimasti senza una dimora. La economia è stata un sbaglio di parte delle istituzioni perché hanno sgombrato la feilandina senza un'alternativa per i ragazzi perché serve un alloggio per loro. Dalla regione è arrivato l'impegno per trovare soluzioni in tempi rapidi. In pochi giorni daremo una data affinché ci si sieda a un tavolo rotondo per poter andare ancora e dare quell'imprimit di velocità che è necessario vista il momento così delicato.